Augusto, qual è il segreto del suo latte? Questo è il latte. Questo invece è il latte fresco Granarolo alta qualità. Arriva ogni giorno dalle stalle Granarolo, mantiene tutto il suo sapore e le sue vitamine. È quello della Lola! E il segreto dei suoi regali? La grande raccolta, regali di alta qualità. Tanti bellissimi regali per voi e per lui. Scopriteli sul nuovo catalogo. Granarolo, la grande passione per l'alta qualità.